Musica Quindi non vedo l'ora di iniziare, anzi iniziamo subito con lo spacchettamento che vi farò vedere di prodotti che sono arrivati in questi giorni e quindi buona visione, ciao! Musica Allora l'ordine è sistemato, sono arrivate alcune novità che vi voglio far vedere al volo Allora sono tornate le spugne konjac per il viso della linea Lady Green nella nuova confezione molto carina in due varianti, questa bianca con aloe vera è rigenerante e rivitalizzante questa nera in bambù è riebulibrante e anti imperfezione Come si utilizzano le spugne di konjac? Si mettono sotto l'acqua un minuto di modo che si ammorbidiscono e si gonfiano un po' e poi si passano sul viso con un massaggio si può utilizzare o con un energente ma anche senza nulla vanno a espogliare la pelle, a rimuovere le cellule morte in superficie e a liberare i pori della pelle hanno un effetto levigante e meraviglioso si possono utilizzare anche tutte le sere e queste sono per il viso è arrivata anche la lezione per il corpo quindi è un po' più grande stesso utilizzo, si inumidisce, si gonfia, si ammorbidisce e si va a massaggiare poi come novità mi incuriosiva e l'ho ordinato il sapone solido per il viso di sempre Lady Green questo mi incuriosisce e quindi molto presto lo proverò anch'io adesso finisco di sistemare e poi passo ad un altro spacchettamento quindi ci vediamo fra poco ciao 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 ciao